Ciao a tutti e benvenuti alla quinta puntata della libreria mobile di mezzanotte. Oggi andremo a vedere un altro Kickstarter che mi è arrivato e di cui avevo parlato anche in questo caso l'anno scorso. Superblood Harvest. Superblood Harvest è collegato tra l'altro a Electric Bastionland perché è alimentato dallo stesso sistema, Into the Odd. Un prodotto che doveva uscire in tre spillati, in flush, quindi cover morbida in paperback. Invece la campagna è andata abbastanza bene ed è arrivato cartonato e bello glitteroso, vedete? È un'edizione della Swordfish Shidens, una piccola indipendente casa editrice americana e il prodotto di un artista, possiamo dirlo perché lui proprio è un artista appassionato di giochi di ruolo. ed è Dirk Ligty, che adesso andremo a vedere e sfogliare così lo conoscete meglio. Il libro è una raccolta appunto di tre avventure, Escape the Bloodship, Crash on the Moon e Killbot Guardian Gods. Alla fine c'è un appendice con le regole ma appunto è un sistema talmente, avete capito più o meno che io tratto di solito OSR, quindi sistemi abbastanza semplici e intuitivi. Anche qui infatti abbiamo, vedete, un regolamento che sta su cinque pagine. Come vedete già da qua, la grafica e l'aspetto artistico è predominante. Dire che appunto ho fatto un lavoro con l'impaginazione, con i colori e con i font che è molto molto ricercato. È un prodotto di nicchia indipendente, ma per questo secondo me è anche molto molto personale e curato appunto da uno che ha passione proprio per la sua arte prima di tutto e per intavolarla. Iniziamo appunto subito con Super Blood da Harvest, qui appunto abbiamo delle ambientazioni decisamente bizzarre. Siamo stati appunto rapiti da, per chi non ha letto l'articolo ve lo dico, siamo stati rapiti da alcuni alieni vampiro e ci risvegliamo all'interno della loro navicella appunto e dobbiamo riuscire a scappare o quantomeno a sopravvivere. Tutto il libro trasuda appunto dell'arte di Dirk che secondo me rende benissimo l'ambientazione bizzarra che ci riporta appunto alla narrativa del decennio scorso nata a Portland, cappeggiata da Carlton Malick III con opere tipo Satan Burger appunto o La vagina infestata oppure quello che secondo me è il suo capolavoro che è La casa sulle sabbie mobili. In italiano se volete andarveli a vedere sono editi dalla Vapor Teppa su Amazon. E appunto ispirandoci a questa narrativa molto bizzarra abbiamo anche dei colori, delle grafiche che sono sicuramente DIY, fatte in maniera molto indipendenti ma che hanno un'estetica molto molto vivida. Qui appunto abbiamo la descrizione della nave, come vedete anche lo stile è molto retro e ci riporta ai videogiochi degli anni 80. Non c'è tantissimo ma se avete fatto caso anche Electric Bastion Lender è molto elegante. Io penso che l'Into the Odd come sistema porti molto a scegliere le frasi per catturare l'immaginario appunto per creare uno schizzo di fantasia nella mente del narratore ma poi vanno esplorate ed è questo l'obiettivo. Qui abbiamo gli encounters, appunto i mostri che sono rappresentati nella pagina precedente. Poi abbiamo gli oggetti, vedete che si tratta appunto qua sono i vampiri spaziali. Questo è l'antico galattico appunto che è tipo un grande gigante vampiro che sta all'interno della nave. Qui abbiamo gli oggetti. Sono molto caratterizzati bene anche le tre avventure da un punto di vista grafico. Queste vedete hanno dei toni e dei colori di un certo tipo, poi evolve arricchendosi di colori e anche di contenuti. L'ultima avventura che vedremo alla fine sarà quella più corposa ed è appunto una sorta di crescendo. Sono tutte e tre sul fantascientifico. Il che mi ha fatto piacere è che il doc nel video prima abbia parlato di Traveler perché qua rimaniamo comunque nella fantascienza ma appunto è una fantascienza bizzarra che si rifà appunto alle opere di Carl Tomelli piuttosto che a cose assurde come i Kuloblin di Auschwitz di Cameron Pierce. Quello non sono sicuro si è edito in Italia. Qui abbiamo invece, dopo essere catturati dai vampiri, possiamo anche collegarli insieme le avventure. Cioè possono essere vissute come una sorta di campagna. Però non è così. Infatti per ogni avventura ci sono dei personaggi diversi con delle caratteristiche diverse. Sono tutti molto... In questa seconda avventura si cade appunto sulla Luna dove c'è un antico tempio di una civiltà abbandonata. I personaggi come vedete qua. Qua ce n'è uno bellissimo che è l'ectosfera. L'ectosfera che cosa andremo a interpretare? Andremo a interpretare una sfera di materia ectoplasmatica. Migliaia di frammenti di anime compressi dalla gravità in una palla larga circa un metro e mezzo. Siamo fortemente attaccati da uno dei nostri compagni di avventura con i quali abbiamo appunto, probabilmente condividiamo un pezzo di anima. Ma noi interpreteremo questa sfera di anime compresse. Era giusto per darvi un'idea. Poi vabbè, ci sono gli esiliati di Venere con un minimo di caratterizzazione sui venusiani. Nell'avventura dopo andremo su Marte appunto. Dove appunto c'è una civiltà di robot che coltiva gli uomini e li stermina come se fossero appunto un raccolto. Qui abbiamo delle varie mappe. Vedete, è tutto isometrico. Quindi, se vedete sotto, ci sono i quadretti del foglio. A me è una cosa che piace moltissimo perché mi dà l'idea che siano appunto disegnati sotto i miei occhi con i tratti, vedete, di pennarello. È uno stile artistico che a me piace molto ma sapete che c'è dei gusti un po' particolari e anche un po' sull'indie spinto. Qui abbiamo appunto i vari NPC che incontreremo. C'è il principe Razzo, ci sono la grande idea lunare appunto e il bestiario appunto. Vedete appunto che è molto lisergica come esperienza. È un'avventura decisamente fuori. Cioè, sono tre avventure decisamente fuori dal solito. I treasure sono molto caratterizzati appunto. Non c'è un grandissimo spessore dentro ma ogni singolo elemento che viene messo in queste ambientazioni è un fuoco d'artificio di schizofrenia e di allucinazione. L'ultima avventura appunto, Super Blood Harvest 3, è quella più ricca, più polposa. Difatti vedete che da sola costituisce praticamente metà del manuale. All'interno di questa già lo stile cambia un po'. Infatti abbiamo anche delle specie di cavalieri. Qua ci troveremo su Marte appunto a combattere contro una società di automi che mira a sterminare la razza umana. noi saremo una parte appunto della resistenza ed è quella anche con più contenuti testuali. Questa qua è stata ampliata durante la campagna Kickstarter. Questi sono i vari posti che potremmo andare a esplorare con appunto queste civiltà aliene che ci sovrastano, queste torri semoventi programmate da robot, le spire che si replicano insomma e i draghi del mare, i draghi della montagna che sono queste enormi creature all'interno delle quali contengono delle civiltà che proteggono appunto e che alimentano e che vengono alimentati da queste civiltà. Questi sono i personaggi appunto vedete che già lo stile cambia un po'. Qua abbiamo la principessa di spade, un replicante che ha disertato dai suoi padroni, dai suoi padroni robot. Abbiamo il clone scappato. Poi c'è tra l'altro anche qui per esempio una piaga, una sorta di peste nanitica che modifica e scompone corrompendo ogni cosa che incontra. Devo aver visto qualcosa del genere su Numenera. Ecco, fa conto, è una sorta di Numenera sotto acido questa ambientazione. A me piace molto. Questa vedete anche la mantra in dragon. Anche qui le ambientazioni di Dirk riescono non solo a darci un ambiente su cui fantasticare, ma ci danno anche proprio il tono dell'ambientazione. vedete la testa del drago con gli occhi che navigano dentro questa croce di vetro. È stupendo, veramente stupendo. C'è anche di Bosch dentro, di Euronymous Bosch sicuramente. Quindi capisco che non posso fare per tutti, ma qui abbiamo un prodotto decisamente unico, ben caratterizzato. Vedete anche qui i contenuti testuali sono decisamente di più rispetto alle altre. Sono meno le mappe, ma la cosa non mi dispiace. è più vasto Marte da esplorare rispetto alle altre due ambientazioni. Guardate che bella sta... Deve essere appunto il templio dei replicanti, appunto, che è incredibile. Mi piace veramente molto graficamente. Io l'ho scelto principalmente per quello. Dentro comunque c'è un gioco decisamente interessante. Queste appunto sono tutte le varie posti che potremo andare a esplorare. Come vedete, ogni posto è illustrato dalla sua particolare illustrazione. E anche dal punto di vista grafico è molto curato, come vedete. Scusate, di nuovo Baruch. E avrei sentito qualcuno fuori. Con delle associazioni di colori che rendono tutto omogeneo. Anche l'accostamento, per esempio, di questo gotico con il pixel lato anni 80. A me è piaciuto molto. Non l'ho trovato fastidioso, anzi. Si collocano tutte e due all'interno di quel mondo vintage e anche un po' indipendente che caratterizza i giochi di ruolo che mi piacciono. Qui ci sono i vampiri. Anche qui, appunto, c'è una continuità tra le tre ambientazioni. Quindi è un fantasy lesergico nello spazio, più che vera e propria fantascienza. Gli oggetti che potremmo andare a trovare, potremmo comporli, potremmo andare a potenziarli. Ci sono delle armi assurde, tipo il raggio polimorfo, che ci potrebbe trasformare il nostro bersaglio in un muro alto circa 5 metri e indefinibilmente lungo. Quindi potete immaginare una cosa del genere. Che tipo di riproduzioni può avere su una storia? I veicoli. Quindi ci sono... Guardate che belli questi qua il Boneworm Lance Rider, quindi il semovente a vermosso. E questo è quanto. È pubblicato, come vi dicevo, dalla Swordfish Islands e è reperibile online dal loro sito. Non so come siano le spese di spedizione. Io vi dico francamente, avevo fatto il pledge, ho pagato le spese di spedizione e me le sono fatte arrivare. Sono contento perché comunque è un prodotto unico, non credo che un prodotto del genere possa interessare molto agli editori italiani. Anche se, devo dire, se avete un minimo di interesse per la cultura indipendente, vi piace anche un po' l'arte bizzarra di Bosch o anche di certe cose di Baschia, probabilmente mi hai ricordato. Comunque, e soprattutto per la letteratura bizzarra, non mi resta che suggerirvelo magari di giocarlo con qualcuno che ha le stesse fantasie malate vostre e mie. E questo è quanto. Questa era la quinta puntata, ragazzi. Super Blood Harvest. Troverete il link sotto per acquistarlo. Se volete andare a visitare la pagina Instagram di Dirk, metterò anche quella. Così vedete anche le sue altre illustrazioni. Sta già lavorando un nuovo progetto. Se vi è piaciuto il video, mettete un like. Se è la prima volta che ci vedete e avete voglia di vedere altri questi video, prendete in considerazione il fatto di subscribe, insomma, di sottoscrivere e iniziare a seguire il canale. Questo è tutto. Alla prossima! Alla prossima!